Avevo tolto queste due gocce quando si è stoppato il video, ma voglio capire se metti a fuoco, metti a fuoco, se è nello stampo. Sì, è nello stampo. L'ho aspettato tanto ed è arrivato graffiato, mannaggia. Dai, però le posso uscire, non si nota più niente. Ora vediamo la stiglina che è troppo bella, ma però è unica, perché è una sola? Troppo bella. Piccola per fare degli orecchini, però. Questa e quest'altra. Sono uguali. Dai, però non sono malazzo, sono usciti un po' marroni, però per il colore del mio vestito rosso si dovrebbero abbinare. Vediamo questi. Questo è un po' troppo aranciato. Ah, ho creato l'arancione, volevo il rosso, ma ho creato l'arancione. Però wow, quanto sono belle. Di dietro ci metto una base di smalto. Bellissimo. Stiamo avvicinando a quelli che io amo di più e voglio vedere i due cuori. Ah, che belle. Mamma mia, stavolta proprio sono indeciso. Ah, non sono della stessa forma, vero? Oh, vabbè. Questo stampo è stato fatto un po' coi piedi. Non hanno la stessa forma. Questo è sfaccettato, questo centrale, no? E non ce n'è un altro, quindi alla fine è quella la coppia. Oddio, ora ho paura pure di questi. Perché da qualche ho capito. Ah no, così sono uguali. Ha inglobato qualcosa di nero. Ma va, non fa niente. Sono bella. E come ultimi... Non li voglio vedere. Oh, che carini! Sono i miei cuoricini! Ma non so se si riesce a notare... No, non penso proprio che si riesce a notare. Che il colore non è venuto omogeneo dappertutto. Quindi... Ha lasciato dei micro... Pallini, non lo so. Bellissimi. Sono un po' da rifinire dietro, però... Infatti c'è una bella bollicina, ma non si nota neanche. Ma sono troppo belli, cioè... Questi con orecchini io me ce li vedo. Da abbinare un bel vestito arancione rosso... O con uno smalto... O con uno smalto... Ehm... Bello fluo. Questo è stato il mio primo... Scopriamo le creazioni. Anche con... Dei piccoli feri. Tra parentesi potrebbero, come non potrebbero. Perché... C'è da un lato... Bellissimo. Da un lato di dietro, ve lo rovinato. Se riesco a limarlo... Molto probabile... Ah, ma c'è venuto per una mega bolla qua! Ecco, a posto. Ciao! Mentre questo... Aspetto che si asciuga, sperando che questa parte qua si indulesca. Ma non penso proprio perché c'è andata l'acqua. Beh, beh, non sarebbe male. Sarebbe un bel effetto. E con questo è tutto. Ciao, ci vediamo al prossimo video.